Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Questo video è molto diverso rispetto agli altri, perché non mi faccio vedere in faccia. Come vedete sono sul mio canale di YouTube. Stiamo arrivando quasi a 1000 iscritti, quindi a 1000 iscritti farò un video molto particolare. E niente, vi consiglio di partecipare e di invitare i vostri amici ad iscriversi, così il video sorpresa, proprio sorpresa, arriverà subito. Tanto ne mancano 50 giusti giusti, perché siamo a 950 e io sono molto felice, perché non ho mai avuto un canale YouTube. E quindi questa è la mia prima esperienza. E niente, questo è il mio canale, vabbè lo potete anche voi osservare. E niente, come vedete io pubblico a volte i musical.ly, quindi mi potete seguire come serena.pesito. Ora ve ne faccio vedere qualcuni, per se le persone non l'hanno visto. Allora. Dov'è? Musical.ly, musical.ly. Questi video, ecco qua. Musical.ly. Ecco, è uno. Ehm... Scusate. Volevo chiedervi se sapete come fare i multiple duetti, perché io non li riesco proprio a fare, per esempio... Aspettate. Vado su musical.ly. Vabbè, lo scelto a stare. Eh, ma non me li fa a fare. Vabbè, qua ci sono le notifiche, vabbè. Pratico, pratico. Niente, questo è il mio profilo. E niente, come ho fatto la manichina challenge. Ecco. Mi sono... Se mi piacciono... Allora, questo è il mio penultimo musical.ly. E niente, perché non l'ho visto, perché alcuni di voi mi seguono su musical.ly. Ehm... Ve lo faccio vedere ora. Scusate. Sapete, perché io non dico parolacce e non faccio nemmeno, quindi non potevo far... Cioè, non faccio il gesto. Quindi, vabbè. Allora, quindi, mi potete seguire come userena.belsito. E niente. Farò anche un video speciale qui su musical.ly. Ehm... Quindi vi consiglio di seguirmi, perché stiamo arrivando anche a 100 fan. E niente, allora, 100 fan, faccio un video speciale. E poi, ehm... Quando arriviamo a me gli iscritti sul canale, ne faccio un altro. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale. E lasciate un bel commento. Ciao, un bacio. Ciao, un bacio. Ciao. 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 Grazie a tutti